Point.0 Point.0 è un collettivo d'arte di studenti dell'Accademia di Belle Arti di Venezia. È nato nel 2019 e questa è la sua terza partecipazione al Festival Tensioni. L'installazione di quest'anno, la mostra di quest'anno, si chiama Collisioni e è tutta incentrata su riscoprire l'identità dell'individuo attraverso le sue differenti declinazioni. Il concetto cardine della mostra è che l'individuo crea la sua identità in base all'esterno, alla diversità e a ciò che è e che non è. Quando questo esterno non è più dato da confini netti ma sempre più labili, sempre più soggettivi, anche la nostra identità e la nostra percezione nel mondo va a modificarsi. Questo tema l'abbiamo affrontato già in altre declinazioni gli anni scorsi e lo stiamo sempre portando avanti attraverso le varie materie artistiche come la pittura, l'incisione, l'installazione artistica, la scultura e andiamo ad approfondire ognuno secondo le proprie sensibilità quello che ci tocca di più. Io ad esempio con i miei dipinti vado ad approfondire quello che è il tema della realtà esterna e delle allucinazioni. Angela e Irene con le loro sculture e installazioni approfondiscono il tema del corpo e di come l'individuo esploda nell'ambiente che lo circonda, vada a scoprire e a interagire con il mondo esterno, sempre su il punto cardine che è l'individuo, l'uomo contemporaneo nella società e nel mondo che va ad abitare.